I carabinieri del comando provinciale di Napoli infliggono un duro colpo al clan Sibillo, quello che fu definito la paranza dei bambini. 21 persone arrestate. Dalle prime luci dell'alba i militari hanno eseguito provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale Partenopeo su richiesta della DDA nei confronti di 21 persone ritenute legate al clan Sibillo, operante nel cuore della città e reso celebre dai media come la paranza dei bambini, retto tra il 2013 e il 2015 dai fratelli Pasquale ed Emanuele Sibillo. Gli arrestati sono ritenuti gravemente indiziati dai delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco con gli aggravanti delle finalità mafiose. Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia Napoli Centro e coordinate dalla DDA Partenopea hanno documentato l'escalation di eventi, richieste estorsive ed esplosioni di ordini e colpi d'arma da fuoco a fini intimidatori che hanno segnato la quotidianità del centro storico nell'ambito dei contrasti sorti con l'organizzazione camorristica rivale dei Mazzarella. Una vera e propria strategia della tensione adottata dai clan per sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine e della procura ai danni dei rivali, a farne le spese agli esercenti delle attività del centro, pizzerie ed esercizi commerciali costretti a subire le richieste estorsive, le intimidazioni e le azioni violente. L'urna funeraria con le ceneri del baby boss Emanuele Sibillo era all'interno di un altare dedicato alla Madonna Alcivico 26 di via Santissimi Filippo e Giacomo nel cuore di Napoli dove risiede la famiglia Sibillo. I carabinieri hanno anche fatto rimuovere dall'altare i simboli dedicati al baby boss, ucciso all'età di 19 anni in un agguato scattato a ridosso del castello Capuano in un vicolo soprannominato Vicolo della Morte, roccaforte della famiglia Buonerba, rivale dei Sibillo. Momenti di tensione subito sedati dalle forze dell'ordine si sono avuti quando uno della famiglia Sibillo si è opposto dicendo che quella era una proprietà privata. I carabinieri stanno rimuovendo anche i simboli della venerazione disseminati lungo i decumani di Napoli dopo l'omicidio di Emanuele Sibillo. Nell'altare dedicato alla Madonna anche un'opera raffigurante alla testa di Emanuele Sibillo che si trova davanti all'ingresso delle abitazioni. Nei decumani sono perfettamente visibili sui muri le scritte inneggianti clan e il simbolo del baby boss ucciso ES-17.